Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia, benvenuti alla 650esima Pillola di Storia. Sono tante 650, non avrei veramente mai detto, lo dico tutte le volte, ma devo dire che ogni volta che raggiungiamo un nuovo traguardo, mi stupisco, mi stupisco di aver fatto altre 50 pillole e di aver raggiunto un numero del genere. Come vi ho sempre detto, quando ho iniziato questo progetto pensavo che non avrei fatto più di 100, 150, massimo, massimo, massimo 200 pillole, ne abbiamo già fatte tre volte di più, 650, e spero di non fermarmi. Dato che però è una pillola speciale, come da tradizione, da sempre, dalla pillola numero 100 in poi, quest'oggi facciamo un viaggio nel tempo. Lasciamo le stanze della nostra biblioteca, da cui normalmente vi racconto le mie pillole, e andiamo invece a prendere la nostra DeLorean, eccoci qua, eccoci qua davanti alla nostra meravigliosa macchina del tempo, e facciamo un viaggio nel tempo, un viaggio nel 650 d.C. E lì faremo un po' i turisti, ci muoveremo a spasso per il mondo, senza cambiare ovviamente anno, 650 da lì non ci muoviamo, e proviamo un po' a scoprire come era il mondo di 1350-1371 anni fa. Vedrete che è un mondo particolare, è un mondo molto diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto appena 50 anni prima, nel 600, perché, se vogliamo, se vogliamo, seppur con un po' di ritardo rispetto a quel 476 in cui ufficialmente finisce l'era antica e inizia il Medioevo, il 650 è la prima tappa dei nostri viaggi nel tempo in cui realmente si respira aria di Medioevo, in cui realmente le cose, almeno nel bacino del Mediterraneo, sono cambiate, come vedremo sono arrivati gli arabi, sono arrivate tutta una serie di popolazioni che saranno poi protagoniste nel Medioevo, e lentamente l'Europa sta cambiando il suo aspetto, dall'era antica, quella della Grecia, di Cartagine, dell'impero romano, fino appunto al Medioevo, come lo conosciamo. Sarà un viaggio che spero vi piacerà, ci sposteremo in giro anche per il mondo, ovviamente, per scoprire il resto del mondo, iniziano ad esserci tante informazioni su questo periodo, quindi faremo una scelta. A differenza di altre puntate, ci concentreremo di più su alcune zone per provare ad approfondire, ovviamente quelle di cui non parleremo lo faremo perché non ci sono grosse novità rispetto al passato, ma vedrete che ci sarà tanto da scoprire in praticamente quasi tutto il mondo. Quindi, se non volete perdervi le prossime 50 pillole e il prossimo viaggio nel tempo, che a questo punto sarà quello alla pillola 700, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati quando esce un nuovo video, sigla e poi partiamo col nostro viaggio. Le scorse puntate sono sempre iniziate in una grande città, sono iniziate a Roma per tantissimo tempo, poi ci siamo spostati a farle iniziare a Costantinopoli e invece questa volta le iniziamo in un deserto. Il deserto che vedete intorno a noi è il deserto d'Arabia, il deserto da cui qualche anno fa sono usciti letteralmente quasi dal nulla, in realtà ne avevamo già un po' parlato nella pillola 600, ma come vedete lo scarto temporale è veramente minimo, sono usciti coloro che cambieranno la storia di questa zona del Mediterraneo, in realtà di tutta questa zona a cavallo tra l'Africa, l'Europa e l'Asia, cioè gli arabi, cioè gli arabi musulmani. Da qualche anno gli arabi hanno iniziato a uscire a ondate dall'Arabia e si sono diffusi molto rapidamente, riuscendo a conquistare tutto il Levante, strappandolo all'impero bizantino, riuscendo a conquistare gran parte dell'impero sasanide. In quest'anno non ci fermeremo a viaggiarci perché ormai praticamente non esiste più, ma l'impero sasanide ufficialmente vive ancora, vivrà ancora per un anno, fino all'anno prossimo, a 651 d.C., quando il suo ultimo sovrano, Jeksgerd III, ultimo sovrano dell'impero sasanide, che dopo numerose sconfitte si è dovuto ritirare fino alle terre della media, dove ha creato la sua ultima resistenza, ebbene tra un anno quell'ultimo sovrano sarà sconfitto ancora una volta, catturato e giustiziato, vedrà la Persia sasanide così terminare la sua storia. Una Persia che era stata autonoma sotto tutto, una serie di imperi fin dalla più remota antichità, e che ora invece cade all'interno dell'impero arabo. Gli arabi però in questi anni si sono espansi anche in altre direzioni, hanno occupato l'Egitto, tra poco ne parleremo quando parleremo dell'impero bizantino, e nei prossimi anni continueranno una loro espansione letteralmente come un fiume, verso l'Oriente, verso l'India, verso la via della Seta, verso Nord, giungendo ad assediare Costantinopoli, pensate, molti molti anni prima che lo facessero i crociati prima e i turchi poi, e poi verso l'Occidente, travolgendo come una fiumana tutto il territorio costiero fino al Marocco, e poi risalendo fino in Spagna. Ma ripeto, di questo ne parleremo nelle prossime puntate, qualcosa diremo parlando già quest'anno dell'impero bizantino. Nonostante sia uno Stato così giovane, ha già conosciuto vari governanti. In questo momento sta governando su questo impero arabo in espansione, Uthman, che è il terzo dei cosiddetti califfi, successori di Mahometto, Rashidun. Sono quattro successori che erano molto vicini a Mahometto. Lo stesso Uthman è stato uno dei primi musulmani. Non è un regnante particolarmente apprezzato da molti in Arabia, bisogna dirlo. Anzi, è accusato di depotismo, è accusato di corruzione. Alla sua morte gli succederà Ali, scatenando però una vera e propria guerra civile. La prima guerra civile che durerà cinque anni all'interno di questo impero arabo e che porterà poi al potere gli Omayadi, una famiglia che attualmente ancora non detiene questo potere, che sarà la prima grande dinastia dell'impero arabo. È un impero che sta facendo tutto molto rapidamente. È uscito rapidamente dall'Arabia, si è espanso rapidamente e rapidamente aveva la sua prima guerra civile. E come sapete, nei secoli successivi continueranno queste fasi, con popoli di religione musulmane e varie etnie che prenderanno il potere, collasseranno, si rispanderanno e così via. Ma in questo momento stiamo assistendo a questa prima fase in cui letteralmente gli arabi, che le popolazioni vicine faticano forse anche a comprendere, tanto che all'interno dell'impero bizantino qualcuno le considera in realtà una specie di eresia del cristianesimo, ebbene questi arabi in questo momento sono veramente un mistero per tutti e sembrano essere letteralmente infermabili. Poco fa mi avete sentito dire Impero Bizantino. E lo so, qualcuno starà dicendo, non si chiama Impero Bizantino, si chiama Impero Romano d'Oriente. È vero, è verissimo, tutto assolutamente vero. Ma in questo momento l'Impero Romano d'Oriente, quello che ne resta, sta subendo un profondo mutamento, che sta portando anche lui ad entrare ufficialmente in un'epoca nuova, che potremmo dire essere l'Impero, l'epoca medievale. E quindi forse per fare un po' meno confusione, in questo caso ci sta bene usare questo termine, che è peraltro assolutamente successivo alla sua fine, di Impero Bizantino. Bene, perché l'Impero sta cambiando? Innanzitutto chi è il suo sovrano? Quattorno a noi a Costantinopoli chi governa? Governa Costante II, che ha appena vent'anni, è salito al potere quando ne aveva undici, succedendo a Eraclio II, e solo negli ultimi anni è iniziato a prendere ufficialmente le redini del potere nelle sue mani. Sotto il suo governo l'Impero ha cercato in qualche modo di rispondere all'avanzata degli Arabi, tanto che nel 646, cioè quattro anni fa, è stato inviato un esercito ad Alessandria d'Egitto per cercare di riconquistare la città e con essa tutto l'Egitto, che non dimentichiamoci è sempre stata una delle province più ricche e importanti, prima per l'Impero Romano Unito e poi per l'Impero Romano d'Oriente. Inizialmente questa campagna sembrava essere riuscita, dall'esercito bizantino era riuscito a riconquistare la provincia, ma l'arrivo di un nuovo esercito arabo lo aveva nuovamente annientato. E questa volta Alessandria si era resa senza combattere. Quando gli Arabi erano arrivati alle porte della città, alcuni cristiani di religione, di eresia, chiamiamola come volete, di ramo monofisita, avevano deciso di aprire le porte della città agli Arabi. Perché? Perché preferivano la maggior libertà religiosa che avrebbero potuto avere sotto gli Arabi rispetto alla lotta che stava avvenendo contro di loro da parte dell'Impero Bizantino. Insomma, come vi dicevo prima, ancora non si capiscono forse appieno le differenze religiose tra questi due popoli. E per alcuni è preferibile una maggiore libertà in una religione leggermente diversa rispetto alla lotta contro l'eresia che da secoli travaglia appunto l'Impero Romano d'Oriente. La riconquista dell'Egitto in realtà volle anche dire la perdita di una parte dell'Africa, almeno di quello che rimaneva all'Impero Romano d'Oriente dell'Africa, cioè l'esarcato d'Africa, che sconfitto dagli Arabi sarà costretto a cedere la Libia e a cedere anche una parte del proprio potere, soprattutto quello economico, sotto forma di vassallaggio. L'esarcato d'Africa resisterà ancora per qualche anno, ma in realtà ben prezzo sarà anch'esso travolto dagli Arabi e conquistato, limitando così le forze dell'Impero semplicemente alla zona che siamo più abituati ad associargli nel corso del Medioevo, cioè l'Anatolia, la Grecia e i Balcani. In questo momento l'Impero ha anche dei mutamenti ovviamente di ordine interno. Si pensa che infatti proprio in questi anni, qualcuno predata all'epoca di Eraclio I, qualcuno all'epoca di Eraclio II, ma la maggior parte degli storici sono più concordi nel pensare che il mutamento sia avvenuto in questi anni, ebbene alla corte imperiale si è deciso di riorganizzare completamente il territorio dell'Impero, creando il cosiddetto sistema dei temi. Cosa sono i temi? Allora, partiamo dall'idea di esercito dell'antichità, soprattutto all'interno dell'Impero Romano. Un esercito che veniva creato e mandato a combattere nelle zone normalmente periferiche, qualora non vi fossero guerre civili da dover combattere all'interno. E all'interno di quelle legioni venivano ad esservi portate soldati di professione che vivevano molto spesso lontano da casa, poi col tempo creavano delle comunità locali, ma venivano mandati laddove serviva a combattere. Questo nuovo sistema divideva invece il territorio dell'Impero in una serie di regioni più piccole, i cosiddetti temi, in cui vi era al comando un uomo che aveva allo stesso tempo sia compiti amministrativi che compiti di tipo militare, e che poteva disporre di un esercito arruolato localmente, quindi tra gli uomini che li vivevano, che diventava l'esercito quindi del teme, che poteva essere unito in vari eserciti per creare appunto un unico esercito per combattere gli invasori. Questo sistema aveva due vantaggi. Il primo è che ovviamente legava fortemente i soldati alla terra, un soldato che combatte per difendere la sua casa, ha una resistenza, forza agli avversari ben maggiore. Dall'altra parte, abbatteva le spese per l'esercito, che come stiamo scoprendo nella serie Imperatores, erano una delle spese più grandi che dovevano essere sostenute da parte dei vari imperi e che rendevano talvolta difficile creare grossi eserciti. Perché? Perché a questo punto i soldati, invece che essere pagati semplicemente in denaro, venivano pagati molto spesso in terre. È un radicamento dell'esercito sul territorio che cambia proprio un po' di prospettiva a quello che deve essere l'esercito imperiale e che dopo tutto è un qualcosa tipico proprio del Medioevo, perché lo ritroveremo poi anche ovviamente in Occidente, in forme diverse, ovviamente, nate dal basso invece che in posto e dall'alto, però ovviamente con una radicazione sul territorio che cambia proprio la prospettiva dello Stato che viene ora a essere composto da vari potentati locali. C'è un forte rinnovamento, o meglio, c'è una forte area di scontro anche per quanto riguarda però la questione religiosa. Perché, proprio Costante II, ha da poco emanato un decreto, il cosiddetto tipo, un decreto in cui, per cercare in qualche modo di riportare la pace dal punto di vista religioso, obbliga a non parlare di una particolare eresia, il cosiddetto monotelismo. Ora, non parlare in realtà voleva dire a tutti gli effetti che i prelati, soprattutto gli altri prelati, non avevano più la possibilità di poter attaccare pubblicamente questa eresia e in questo modo cercare di condannarla, tutte cose che venivano ovviamente a favore dell'eresia stessa. Alcuni degli altri prelati, a cominciare da quelli ovviamente nell'area orientale dell'impero, si erano piegati a questa volontà imperiale, ma così non aveva fatto il papa. In particolare, il nuovo papa eletto Martino, il quale aveva rifiutato di firmare il tipo e di aderire a questa decisione dell'imperatore, addirittura dicendo chiaramente che chiedeva all'imperatore di tornare sui suoi passi e di condannare l'eresia. L'imperatore, che peraltro in questo periodo deve riconoscere il papa perché sia effettiva la sua carica, l'imperatore diciamo che non l'ha presa bene, tanto che proprio in quest'anno darà ordine al suo esarca in Italia, cioè al governatore di quello che resta dell'impero bizantino in Italia, ne parleremo poi tra poco, di cercare di assassinare il papa. E Olimpio, così si chiama l'esarca, tra un anno nel 651 cercherà di fare proprio questo. Secondo la leggenda, l'assassino che doveva uccidere il papa mentre stava dando la comunione al proprio Olimpio non riuscirà, grazie a un'intercessione divina che lo renderà cieco al momento di cercare di colpire, il papa in effetti questo tentativo andrà a vuoto. Addirittura Olimpio si ribellerà al suo imperatore creando un dominio autonomo che durerà però due anni, poi verrà spazzato via dall'esercito bizantino, giunto in soccorso. Il papa rimarrà ancora a Roma per qualche anno, poi questa volta il nuovo esarca lo farà catturare, spedire a Costantinopoli, dove sarà prima condannato a morte e poi cambiata questa condanna in un esilio a Tremisonda, dove poi morirà. Insomma, è ancora un'epoca in cui il papa di Roma ha sì un forte potere, tant'è che quando Martino sarà portato via qualcuno cercherà di spingere la popolazione di Roma, i prelati a prendere le armi contro i bizantini, ma pare che sarà il papa a impedire questo bagno di sangue, ma deve ancora condividere il papa questo potere proprio con l'imperatore di Bizanzio. È un dualismo impero-papa che anche se tra poco si sposterà, tra poco, tra qualche secolo, si sposterà più verso nord e con gli imperatori del Sacro Romano Impero, dovremmo iniziare a conoscere, a conviverci per tutto in Medievo, ma lo vedremo poi in futuro. Abbiamo parlato dell'Italia, oh, adesso ci spostiamo in Italia, non l'abbiamo fatto prima, ma adesso ci spostiamo qui in Italia, perché l'Italia, come potete vedere dalla cartina qui a fianco, ormai di Bizantino ha ben poco, dell'impero romano d'Oriente ha ben poco, con i Longobardi che ormai sono riusciti a espandersi e a conquistare, tra il regno principale con capitale Milano a nord e il ducato di Benevento a sud e che però in questo periodo riconosce l'autorità del regno Longobardo del nord e sono riusciti a conquistare ormai quasi tutta la penisola. Sovrano dei Longobardi è uno dei più grandi sovrani che i Longobardi abbiano mai avuto, che proprio in quest'anno avete il piacere di poter incontrare a Milano, cioè Rotari. Rotari è un uomo che dal punto di vista militare ha continuato l'espansione dei Longobardi, che hanno strappato la Liguria, i Romani hanno strappato una parte dell'Emilia, non è riuscito a conquistare completamente l'esarcato, che da Ravenna ancora resiste e soprattutto alcuni territori nel sud Italia, ma è sicuramente ormai riconosciuto come un regno in espansione che controlla quasi completamente l'Italia. Rotari è famoso anche per un altro motivo, perché proprio in questi anni sta venendo emanato l'editto di Rotari, quell'editto, che credo che tutti lo abbiamo studiato a scuola, che trasforma il diritto Longobardo, che fino a quel momento era stato un diritto a voce, un diritto fatto, trasmesso per via orale da capo a capo, da sovrano a sovrano, fin dai tempi in cui erano tribù che vivevano nella zona della Germania, anche oltre, ebbene, quel diritto è stato trasformato proprio dall'editto di Rotari in un diritto scritto, un diritto che prevede delle modifiche rispetto a quello precedente, non c'è più il diritto di faida, quindi tu ammazzi me, io ammazzo te, ma inizia a essere previsto un pagamento in denaro. Adesso non voglio approfondire troppo, ma come vedete, anche qui le cose stanno cambiando. Per quanto riguarda il resto dell'Europa continentale, ci sono, secondo me, due storie che sono interessanti da raccontare, che ci porteranno in due viaggi, uno nell'attuale Francia, e uno nell'attuale Spagna, o se preferite, uno nel Regno dei Franchi, e l'altro invece nel Regno dei Visigoti. Il Regno dei Visigoti, di cui come vedremo nella prossima puntata, inizierà a diventare un po' difficile parlare, ma vedremo quando parleremo del Settecento. Partiamo dai Franchi. Vi ricordate che nella scorsa puntata abbiamo visto come il Regno dei Franchi ha questa tendenza a frantumarsi, anche perché i sovrani tendono a lasciare i loro territori divisi tra tutti i figli. Siamo ancora ben lontani da quell'idea di primo genitura, in cui il trono sarà lasciato semplicemente al primo figlio, insieme a tutti i possedimenti, per cercare di tenerlo compatto. Ci mancano parecchi secoli perché si arrivi lì. Il risultato è che quando muore un sovrano, molto spesso poi il territorio viene diviso. A volte i figli combattono fra di loro per impossessarsi del territorio, a volte uno muore lasciando agli altri, e in qualche modo il Regno tende a ricompattarsi. L'ultima volta che il Regno Longobardo è stato unito era sotto Dagoberto I, che ha governato fino a una quindicina di anni fa. Dopodiché l'ha diviso tra i suoi due figli, che tra l'altro tra i loro due sono fratellastri, sono saliti al trono relativamente giovani, e hanno quindi un potere ancora abbastanza limitato nei loro territori. Il Regno dei Franchi però sta subendo un duplice mutamento. Da una parte un mutamento diciamo dal basso, perché molti dei signori feudali, feudali, scusate, ho usato un termine assolutamente ancora troppo precoce, molti dei signori locali, mi piace più come termine, molti dei signori locali iniziano ad acquisire una quantità di territorio su cui possono estendere il loro controllo molto grande, con il risultato di iniziare ad avere un potere sempre maggiore anche a discapito di quello del sovrano, che vede il suo potere essere limitato in varie zone del suo regno, e di dover ovviamente contare su questi signori locali per il mantenimento del territorio, ma soprattutto per prendere le proprie decisioni, sia dal punto di vista militare che dal punto di vista economico. L'altro aspetto è che i successori di Dagoberto sono considerati i primi veri e propri re fannulloni, chiamati così, con ovviamente un termine che è nato successivamente, per indicare quei sovrani che ad un certo punto iniziarono a mettere da parte il loro diretto controllo sulla vita politica e sulla vita pubblica, lasciando che ad occuparsi dell'amministrazione del regno fossero invece i loro maggiordomi, così vengono chiamati a tutti gli effetti sono dei primi ministri, potremmo forse definirli in maniera migliore. Questi maggiordomi inizieranno ad acquisire sempre più potere, tanto da diventare gli effettivi controllori del potere reale all'interno del re, dei vari regni che si dividono i territori dei franchi. Questi maggiordomi ben presto sostituiranno i merovingi, che sono la dinastia attualmente al potere in territorio dei franchi, divenendo loro gli effettivi padroni del regno, portando così alla dinastia dei carolingi, di cui parleremo ovviamente in futuro. Una curiosità, Dagoberto, che è morto 15 anni fa, è il primo sovrano dei franchi ad essere stato sepolto a Saint-Denis, a Saint-Denis che dove proprio lui ha fatto costruire una abbazia che in parte esiste in alcuni resti ancora oggi. A Saint-Denis sarà poi costruita una chiesa, una cattedrale e così via e fino all'ultimo dei sovrani francesi, ovviamente prima della rivoluzione, saranno proprio sepolti in questa zona e rimarrà come tomba reale da adesso, 600, beh, dalla morte di Dagoberto, 635 d.C. fino alla fine del XVIII secolo. Una situazione molto diversa c'è invece nel vicino regno dei Visigoti che occupa grossomodo tutta la penisola iberica. In questo momento infatti il regno è tutt'altro che spaccato, anzi, dal 642 conosce un solo sovrano, un sovrano che sta imponendo la sua legge con forza, è considerato un sovrano crudele pronto a punire chiunque provi ad opporvisi, tanto da aver fatto addirittura dei concili per confermare delle punizioni durissime contro i nobili che erano, si erano schierati contro di lui durante la piccola guerra civile che otto anni fa nel 642 l'ha portato al potere, un uomo che si chiama Kindasvindo e che venne ricordato come uno degli ultimi se non l'ultimo grande sovrano Visigoto di Spagna. C'è una curiosità, quando nel 642 Kindasvindo è salito al potere aveva 79 anni, 79 anni in un'epoca in cui erano pochi già a vivere fino a quest'età e nonostante questo ancora adesso nel 650 d.C. è un uomo che ha più di 80 anni e è considerato forte e deciso, camperà fino ai 90 anni, pensate, regnerà fino ai 90 anni mantenendo stretto nella sua mano al potere, un uomo veramente di un'età che, rispetto, ci sembra già molto avanzata adesso, nel nostro tempo, figuriamoci come poteva sembrare nel 650 d.C. è una curiosità che vi lascio e portatevi a casa da questo viaggio nel tempo. Prima di spostarci di nuovo verso l'Oriente, superare la Persia e andare verso l'India, ancora due cose da dire di questa zona. Innanzitutto parliamo dall'Inghilterra. Inghilterra l'abbiamo conosciuta negli ultimi anni, avere, nelle ultime puntate dei nostri viaggi nel tempo, avere progressivamente subito invasioni sempre più pressanti da parte degli Angli, degli Iuti, insomma, dei popoli che venivano dai territori dell'attuale Danimarca o ancora di più, perché questo era poi il termine con cui comunemente si chiamavano da parte dei sassoli provenienti dalla Germania. Queste invasioni nel 650 d.C. hanno ormai praticamente raggiunto il loro culmine. La Britannia non esiste più. I Britanni, quelli ancora maggiormente fedeli agli antichi credi, agli antichi credi dei popoli britannici e quelli che si erano invece tra virgolette convertiti seguendo le idee di Roma sia dal punto di vista religioso, erano più spesso diventati cristiani, ma anche dal punto di vista culturale, assorbendo proprio l'idea romana, la loro cultura, ebbene tutti questi regni britannici si sono sfaldati e uno dopo l'altro sono stati conquistati dai sassoni che si sono spinti ad occupare ormai quasi tutta la penisola. Resiste in mani britannici che ancora la cornovaglia, ma lo farà per poco, anzi, proprio in questi anni sta venendo condotta una campagna che porterà alla sua conquista, resiste invece il Galles che resisterà ancora per molto tempo, tanto che ancora oggi in Galles una parte della lingua i toponimi sono di origine britannica, insomma, una situazione o quantomeno celtica, una situazione che continuerà a differenziarla dall'Inghilterra, quando invece, almeno fino ad oggi, fino a 650 d.C., non vi erano differenze tra quella che noi chiamiamo Inghilterra e quella che chiamiamo invece Galles. I sassoni si sono organizzati, non esiste un unico regno sassone di tutta l'Inghilterra, assolutamente no, ma si sono organizzati in sette regni diversi. Mi metto la cartina qui a fianco perché è interessante. È nata, in realtà la cartina è leggermente successiva, vedete che la cornovaglia è già occupata, è nata la cosiddetta Eptarchia, cioè i sette regni, i sette regni, appunto, fondati dai sassoni, la Mercia, la Nortumbria, il Wessex, il Sussex, e così via. Sette regni che rimarranno come denominazione storica proprio dell'Inghilterra che verranno mantenuti fino all'invasione da parte dei Normanni, quindi parliamo del 1066, mancano ancora più di 400 anni. Insomma, anche l'Inghilterra abbandona l'antichità ed entra nel Medioevo. L'invasione però ne dovrà ancora subire tante prima di diventare un'isola che l'invasione non ne subirà più, ripeto. Ci manca ancora parecchio. Ancora una cosa di cui parlare. Dalla fredda Inghilterra ci spostiamo, andiamo un attimino al caldo e parliamo dell'Africa, del regno di Axum che ultimamente è stato il nostro compagno di viaggio. Ovviamente il regno di Axum ha subito fortemente la spinta da parte degli arabi che hanno conquistato quelli che erano i territori nell'Arabia Meridionale del regno di Axum stesso, hanno conquistato circa una decina di anni fa i territori nubiani su cui Axum pur non avendo un controllo diretto esercitava un controllo dal punto di vista economico e stanno spingendo per conquistare anche i territori etiopi. In realtà il regno ha resistito. La prima invasione che c'è stata pochi anni fa, 5-6 anni fa, ha visto il regno riuscire a respingere gli arabi ricacciandoli indietro. Sarà anche questo indebolimento che permetterà poi ai bizantini di riconquistare temporaneamente Alessante ed Egitto. Il regno di Axum seppur indebolito si trasformerà in un vero e proprio regno da commerciante a pirata e i suoi pirati continueranno a colpire le coste dell'Arabia e addirittura di qua una decina d'anni proveranno a riconquistare i loro territori in Arabia iniziando una campagna che approfittando anche della guerra civile tra i popoli arabi di cui vi ho parlato prima avrà un certo successo. Saranno però poi nuovamente respinti ma questo regno ci accompagnerà ancora per qualche puntata. Ve lo volevo dire perché a volte c'è l'idea che nessuno fosse riuscito a resistere all'avanzata araba invece non è così qualcuno dei regni forse di cui meno contiamo riuscì in qualche modo a resistere e per parecchi anni ancora a conviverci. Lasciando Axum e il suo bel caldo ci spostiamo però ancora un pochettino verso il nord dell'Europa e lo facciamo per parlare di tutta una serie di popoli che proprio in questi anni stanno arrivando in Europa ma di cui continueremo a sentire parlare per molto tempo. Tra questi popoli ce ne sono due in particolare che sono giunti proprio in questi anni nei Balcani e sono le popolazioni slave che giungeranno nella parte centro meridionale dei Balcani e le popolazioni invece croate che giungeranno nella parte più a nord e sono popolazioni con cui i bizantini hanno cercato di avere a che fare spesso cercando di deviarli verso occidente cosa che avevano fatto più volte anche in parte con gli avari che continuano a esistere in questo periodo ma che attaccano principalmente verso occidente lasciando più in pace i territori bizantini non essendoci riusciti i bizantini decidono di farli stanziare nei territori che oggi a distanza di tanti secoli costituiscono proprio i nuclei del loro territorio quindi lungo i territori dell'attuale Serbia per gli slavi invece i croati più a nord e lungo la Dalmazia dove di qui a qualche anno creeranno anche un principato autonomo iniziano ad arrivare come vi dicevo prima alcuni protagonisti di questo medioevo un altro popolo che ancora non è arrivato ma arriverà molto breve sono i bulgari che in questo momento si trovano ancora in un grande regno l'antico regno di Bulgaria che si trova intorno al Mar Caspio uniti in un unico grande regno ma anche molto presto sotto la spinta dei turchi che giungeranno da oriente tra poco ne parleremo lentamente si disgregherà anzi il sovrano che regna in questo momento è l'ultimo dei grandi sovrani a mantenere uniti la grande Bulgaria si disgregherà in tutta una serie di regni minori che si sposteranno verso occidente e di qui a qualche anno arriveranno anche loro nei Balcani non in maniera pacifica tra virgolette o controllata come gli slavi ma in maniera decisamente più violenta imponendo la loro forza sulla sui territori dei bizantini un po' più oriente c'è un altro popolo di cui parleremo tra poco che sono i cazzari ma le parleremo ripeto tra qualche puntata ve lo inizio a dire iniziate a ricordare questo nome che è molto interessante perché è uno se non l'unico popolo nella storia ad essersi convertito alla fede ebraica ed è una curiosità ma ripeto ne parleremo tra qualche puntata di Viaggio nel Tempo direi che è tempo di spostarci in Oriente potremmo fare una sosta in Afghanistan perché in questo momento l'Afghanistan è curiosamente uno stato abbastanza unito sotto un'unica etnia i cosiddetti Eftaliti o Unni Bianchi di cui avevamo parlato già in passato ma non c'è molto da dire perché in realtà non è che gli Eftaliti hanno conquistato l'Afghanistan è che sono stati cacciati in questa zona dai Sasanidi qualche anno fa l'ultima grande campagna dei Sasanidi vittoriosa è stata proprio contro gli Eftaliti in realtà i territori che i Sasanidi hanno strappato agli Eftaliti nel Khorasan saranno poi occupati rapidamente dagli Arabi quindi non hanno avuto molto vantaggio gli Eftaliti si sono spostati in Afghanistan no quello di cui vi voglio parlare come sempre è invece l'India la vedete alle nostre spalle quello che vedete alle nostre spalle è uno dei più antichi templi Hindu mai costruiti o meglio mai giunti fino a noi e che è stato proprio costruito in questi anni ed è stato costruito in un regno il regno di Chalukia di cui abbiamo già iniziato a parlare nella scorsa puntata in realtà è stato fondato quasi un secolo fa anche se solo nella scorsa puntata è iniziato a avere una certa dimensione importante nel territorio del Deccan quindi nella parte meridionale dell'India il regno di Chalukia in questi anni sta conoscendo una rapida espansione che nel giro di circa 50 anni un secolo la porterà a essere il regno principale proprio di tutta la parte meridionale dell'India a guidare questa rapida espansione è il suo sovrano Pulakeshin II il quale è considerato un grande costruttore ha fatto costruire lui il tempio che abbiamo intorno a noi ma che è anche considerato un grande generale perché ha permesso proprio al regno di Chalukia di espandersi all'interno del Deccan in realtà in questo 650 Pulakeshin II è già morto è già morto perché è morto 4 anni fa affrontando quelli che in questo momento sono i nemici mortali dei Chalukia cioè i Pallavas una confederazione anche di loro ne abbiamo già parlato che si trova nella parte ancora più meridionale dell'India quindi proprio nella punta dell'India e che ha visto la crescita dei Chalukia come una grande minaccia i Pallavas che ancora sono più grandi dal punto di vista territoriale hanno creato un grande esercito l'hanno mandato verso nord e hanno combattuto proprio contro di Chalukia in battaglia il sovrano Chalukia è morto riuscendo però in qualche modo a fermare l'avanzata dei Pallavas o meglio se ha ascoltato i Chalukia hanno vinto loro e ricacciato i Pallavas se ha ascoltato i Pallavas hanno vinto loro ucciso il sovrano e mandato il paese nella guerra civile in realtà probabilmente secondo gli storici non ha vinto nessuno c'è stato una sorta di pareggio entrambi gli eserciti hanno perso molti uomini hanno deciso di rinunciare alla campagna che ha creato uno status quo in effetti il regno Chalukia in questo momento è non proprio in guerra civile ma si stanno alternando più sovrani tra un anno nel 651 dopo 4 sovrani in 5 anni finalmente tutto questo si fermerà e riprenderà la stabilità e riprenderà l'espansione ma ne parleremo meglio nella prossima puntata se ci spostiamo ancora più a oriente ovviamente arriviamo in Cina la Cina in cui ci troviamo a vivere nel 650 d.C. è una Cina che ha definitivamente almeno per qualche secolo messo da parte le frammentazioni è una Cina che abbiamo conosciuto nel corso di tante puntate in mezzo alle guerre civili gli scontri le dinastie che duravano veramente pochissimi anni adesso invece la situazione si è stabilizzata grazie a una nuova dinastia fondata circa una quarantina di anni fa dall'imperatore Gaozu che è la dinastia Tang la dinastia Tang ha posto fine alla guerra civile ha creato un nuovo regno e soprattutto grazie a Taigong il successore di Gaozu è riuscita ad espandersi risottomettendo tutto il territorio cinese e iniziando una lunga lotta durata quasi 15 anni contro i Gok Turk abbiamo parlato nella scorsa puntata non ho voluto ripetere cioè quel grosso impero turco che sorgeva nell'Asia centrale che aveva approfittato proprio degli scontri in Cina per iniziare una serie di campagne verso la Cina i cinesi sono però riusciti a sconfiggerli a più riprese a catturarne il sovrano a conquistare i territori più orientali dell'impero Gok Turk e a frantumarlo dalla frantumazione dell'impero Gok Turk nasceranno tutta una serie di popolazioni di cui abbiamo già parlato anche un pochettino prima parlando dell'Europa un anno fa però nel 649 d.C. Taizong è venuto a mancare ed è stato sostituito dal figlio Gaozong Gaozong è di tutta un'altra pasta tanto il padre era un uomo decisionale un potente militare un ottimo diplomatico un ottimo amministratore tanto Gaozong non è nulla di tutto questo fortunatamente per lui di qui a 5 anni sposerà un'ottima imperatrice Wu Zhu se lo devo pronunciato bene la quale diventerà molto rapidamente il vero padrone della politica cinese traghettando l'impero Tang in una fase di crescita che continuerà anche con i suoi successori la Cina che vedete intorno a voi sta letteralmente rifiorendo sta rifiorendo dal punto di vista militare l'abbiamo detto dal punto di vista diplomatico è stata in grado di sottomettere tutta una serie di popolazioni vicine da appunto i Khan turchi che nella tomba di Taozong lo accompagneranno proprio nella morte sotto forma di statue ma anche di sottomettere ad esempio i regni nella penisola indocinese su cui la Cina torna ad avere una certa importanza di qui a qualche anno le armate cinesi conquisteranno anche il nord della Corea raggiungendo così un'espansione quasi totale è molto interessante anche la questione legata alla diplomazia perché la Cina dopo anni in cui si era rinchiusa in se stessa a causa proprio delle guerre civili torna ad espandersi anche dal punto di vista diplomatico e lo fa tornando a prendere contatti diplomatici e commerciali con molti regni verso l'occidente e tutto questo ci è confermato anche dal fatto che in questo periodo giungono in Cina molte missioni religiose ad esempio cristiani nestoriani che giungono fino in Cina per cercare di fare proselitismo allo stesso tempo in Cina si diffonde molto il confucianesimo ovviamente che vedrà anche una forte ristrutturazione della struttura amministrativa della Cina stessa proprio secondo i dettami del confucianesimo si diffonde però anche molto il buddismo grazie al fatto che molti cinesi viaggiano in India proprio per cercare le origini di questa religione e poi tornano a parlarne in Cina insomma è una Cina che mentre l'Europa sotto un certo punto di vista crolla sotto le guerre sta rinascendo come un nuovo centro del mondo i diplomatici della dinastia Tang in realtà si dirigono anche verso l'Oriente e lo fanno per prendere contatti con l'unico grande regno che si trova all'Oriente cioè il Giappone questi rapporti diplomatici sono bilaterali e proprio in questi anni è partito una spedizione giapponese diplomatica verso la Cina anche se probabilmente non vi è mai arrivata ma su questo non abbiamo moltissime notizie in questo momento il Giappone è governato dall'imperatore Kotoku del clan di Yamato ricordate ne abbiamo già parlato il clan che si sta espandendo progressivamente sulle isole giapponesi e per la prima volta sarà proprio Kotoku a spostare la capitale dalla zona di Yamato verso invece la zona di Osaka che sarà temporaneamente capitale per poi essere riportata indietro ancora sotto il regno dell'imperatore Kotoku dal figlio di Kotoku che supererà di potere il padre gli strapperà il potere e rimporrà il ritorno della capitale rimarrà ancora qui per poco tra qualche anno si sposterà a Nara ma magari ne parleremo in futuro c'è una curiosità su Kotoku di cui in realtà abbiamo pochissime notizie ed è cioè chi governa prima di lui e chi governa dopo di lui perché il figlio nonostante gli avesse usurpato il potere in realtà non succederà a Kotoku ma succedegli sarà la sorella sorella che in realtà aveva già governato anche prima di lui perché aveva preso il potere per poi cederlo proprio al fratello c'è una curiosità pur essendo la stessa donna che governa prima e dopo l'imperatore nei suoi due regni assumerà due nomi diversi e questo renderà un po' più complesso compilare gli alberi genealogici proprio degli imperatori due nomi diversi per riferirsi alla stessa donna che secondo alcuni storici in realtà condivise il potere con il fratello per un periodo per poi in realtà riprenderlo completamente nelle sue mani è una curiosità che vi lascio il bello dei viaggi nel tempo è anche scoprire queste particolarità l'ultimo salto che facciamo lo facciamo in America e lo facciamo per parlare purtroppo di una crisi che abbiamo già annunciato nella scorsa puntata cioè quella della civiltà di Teotihuacan Teotihuacan ci ha accompagnato in gran parte di questi viaggi nel tempo una città-stato che rappresenta letteralmente l'inizio culturale dell'America centrale un inizio culturale che andrà a influenzare tutti i popoli successivi fino all'arrivo degli spagnoli ebbene la città di Teotihuacan proprio in questi anni ancora per quasi 50 anni da 650 a 700 750 dopo Cristo conosce il suo crollo dopo essersi espansa per tanto tempo dopo aver esteso il suo dominio su una parte dell'America meridionale nelle scorse puntate aveva iniziato a regredire a perdere potere a perdere il controllo delle miniere che aveva instaurato e questo si è trasformato in una progressiva perita di potere economico anche all'interno della città stessa il risultato è stato molto probabilmente lo scoppio di una guerra civile che secondo quello che pensano gli storici avrebbe causato i danneggiamenti ai grandi tempi che erano stati costruiti in cui sono stati trovati segni di incendio probabilmente causati proprio da scontri all'interno della città per Teotihuacan inizia un secolo di declino un secolo che la porterà a perdere tutto il proprio potere dal punto di vista politico e economico ma non dal punto di vista culturale dato che questo potere questa cultura di Teotihuacan come vi dicevo continuerà per molti secoli a influenzare i suoi successori successori di cui inizieremo a parlare nelle prossime puntate bene io mi fermo qua ci sarebbero ancora cose da dire ma credo che le cose principali le abbiamo trattate e come sapete potete andare ad approfondire tutto quello che volete questi viaggi servono proprio solo a stimolare la nostra curiosità abbiamo ripreso la nostra macchina del tempo e torniamo nel nostro 2021 un 2021 che si chiude sta chiudendosi anche lui tra qualche giorno e chissà che un giorno non ci faremo un viaggio nel tempo a ritroso per vedere che cosa era di questo 2021 in realtà ve lo dico già alla fine a fine anno l'ultima puntata il 31 dicembre come sempre cercheremo di provare a decidere quali possano essere gli eventi storici che rimarranno di questo 2021 vi faccio un piccolo spoiler ma immagino che qui seguo il canale da un po' non potesse immaginare quindi riprendiamo la macchina del tempo siamo nel nostro 2021 io mi fermo qua vi ringrazio per avermi seguito accompagnato in questo nostro viaggio nel tempo spero come vi dicevo di ritrovarvi di qui a 50 puntate nel 700 per il prossimo viaggio nel tempo spero di esserci io e spero di ritrovare voi ovviamente come sempre se vogliamo arrivarci dobbiamo fare delle pillole quindi se volete consigliarmi delle pillole in descrizione ci sono i nostri social facebook instagram telegram se invece volete semplicemente continuare a seguirmi io vi ricordo la cosa più importante che da 650 puntate a questa parte l'essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nel loro opere e se volete iniziare a curiosare qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia e tra 50 puntate per un nuovo viaggio nel tempo a presto ciao ciao ciao